In greco topos vuol dire luogo e viene anche utilizzato per esempio per indicare i luoghi comuni. In matematica però è anche usato proprio nel senso di luogo in alcuni termini matematici come per esempio i politopi che sono in realtà una generalizzazione dei poligoni in dimensioni superiori a quelle del piano, cioè le due dimensioni 3, 4 ecc. E proprio un particolare politopo è il protagonista di questo video che è dedicato al terzo episodio del fattore gamma storia fantascientifica di Alessandro Pastrovicchio iniziata sul topolino numero 3523 e chiusa sul 3525 a cui ho dedicato un video per ciascuna puntata. E a questo punto già sento alcuni di voi dire ma non dovevi parlarci delle quasar oggi? E sì così avevo detto visto che il titolo di questo episodio, la quadratura del quasar, sembrava suggerire proprio le quasar come protagoniste della storia e invece è stato proprio quel quadratura a dirci e un po' in realtà lo sospettavo che il protagonista della storia sarebbe stato proprio un particolare oggetto matematico, il tesseratto. Ma andiamo con ordine e iniziamo la nostra storia con un matematico francese, Henri Poincaré. Poincaré infatti ci ricordava che noi come esseri viventi ci siamo sviluppati, in particolare abbiamo sviluppato i nostri sensi per poter sperimentare un universo geometricamente a tre dimensioni. Quindi ci viene piuttosto difficile riuscire a immaginare, anche solo a immaginare, un universo a quattro dimensioni. Potete quindi ben capire come sia stato complicato riuscire a spiegare la teoria della relatività speciale e generale di Albert Einstein una volta che questa venne scoperta e poi divulgata. La relatività di Einstein infatti ci dice che tempo e spazio sono strettamente legati, in particolare che il tempo e le tre dimensioni spaziali insieme creavano uno spazio quadridimensionale che è lo spazio in cui si trova immerso l'universo che noi osserviamo. Dal punto di vista però della matematica pura, il discorso sulle quattro dimensioni era iniziato però alla fine del 1800. In particolare nel libro di Charles Hinton, A New Hero of Truth, datato 1888, si andava infatti a immaginare tutta una serie di figure geometriche a più dimensioni, tra cui appunto anche un ipercubo che veniva chiamato per la prima volta tesseratto. Il tesseratto in particolare è l'equivalente di un cubo in quattro dimensioni, solo che il cubo è una figura geometrica in tre dimensioni e il tesseratto è una figura geometrica in quattro dimensioni. La sua costruzione parte proprio dallo cubo tridimensionale, così come il cubo tridimensionale viene costruito a partire dal quadrato e il quadrato a partire dal segmento. In particolare se io prendo il segmento e lo ruoto per 4 volte di 90 gradi alla fine ottengo un quadrato e allo stesso modo se io prendo un quadrato e lo ruoto nello spazio di 90 gradi come angolo solido, ottengo alla fine un cubo. E allo stesso modo se io ruoto un cubo di 90 gradi quadridimensionali otterrò alla fine un ipercubo. Solo che la nostra mente, essendo in grado di visualizzare quattro dimensioni, non è in grado di visualizzare nemmeno la sua costruzione. Però una cosa possiamo farla se io prendo un cubo, lo apro, mi trovo con una figura bidimensionale sul tavolo e allo stesso modo. Posso prendere l'ipercubo e aprirlo trovando così la figura corrispondente tridimensionale che è molto simile alla figura che ho ottenuto quando apro un cubo, cioè quando per esempio apro un dado. Solo che invece di essere costituita da tanti piccoli quadrati, sarà costituita da tanti piccoli cubi. Un altro modo per visualizzare il tesserato e più in generale tutte le figure geometriche più dimensioni è quello di utilizzare il diagramma di Schlegel introdotto dal matematico tedesco Viktor Schlegel nel 1883, quindi giusto qualche anno prima, rispetto all'introduzione del tesserato da parte di Hinton. Questo diagramma parte da una semplice idea, cioè prendiamo i vertici, i segmenti del mio politopo e proiettiamoli su uno spazio tridimensionale, ottenendo così alla fine una figura tridimensionale che non è esattamente la figura ma la sua proiezione, diciamo così, ortogonale. Ora, il tesserato, per esempio, possiamo utilizzarlo per spostarci in maniera più o meno immediata in vari punti del pianeta, se non addirittura dell'universo, come per esempio succede nel racconto di Robert Heinle del 1940, se le memorie non mi inganna, la casa nuova di cui una intera casa viene costruita come se fosse un tesserato o, se preferite, la casa che viene mostrata nel racconto e uno dei tanti cubi di cui costituite il tesserato. Per cui, ovviamente, nel momento in cui Enigm fa creare un tesserato atomino, questo può essere utilizzato dai nostri per potersi allontanare dal centro galattico e dirigersi quindi in maniera più o meno immediata verso la Terra, però, poiché il tesserato è nel nostro universo fisico, e il nostro universo fisico ha quattro dimensioni, una di queste quattro dimensioni è il tempo, allora il tesserato può essere utilizzato persino per osservare eventi che sono avvenuti o che avverranno nei dintorni temporali dell'osservatore. Si potrebbe quasi utilizzare anche il tesserato come macchina del tempo, cosa che, magari, in una qualche futura storia di Alessandro Pastrovicchio potrebbe accadere effettivamente. Quindi non possiamo fare altro che aspettare la sua prossima saga da questo punto di vista. A questo punto, innanzitutto, vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove ci saranno i link di approfondimento. Inoltre, sperando di ricordarmi in tempi brevi, andrò anche ad aggiungere il link con l'articolo di appoggio di questo video, in cui poi vado a raccontare, più o meno brevemente, altri aspetti scientifici che ho trascurato, ma che sono presenti nella storia. A questo punto, non mi resta che invitare di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli della serie Disney Comics & Science. Per cui, saluti a tutti!